È un'altra bella soddisfazione, una cosa che io sono estremamente orgoglioso di aver portato oggi qua insieme a un grande lavoro in collaborazione con il Centro Pastore, con Imperia Basket e con l'Associazione di Genitori Attivi. Devo dire che dove ci sono le associazioni e si lavora in sinergia con il Comune viene portato sempre un buon risultato e un ottimo lavoro per la città. Qua si parla dal 6 al 9 di settembre, un appuntamento dove c'è un torneo che vuole essere un lavoro dove c'è lo sport e dove c'è la ricreazione, perché ci saranno delle esibizioni di ballo, un po' di musica in sottofondo per chiudere poi il 9 con una spaghettata di divertimento tutti insieme. Il Campetto delle Ferriere è uno dei tre obiettivi che si propone questa manifestazione. Sicuramente il Campetto viene rilanciato, viene fatto conoscere, verrà anche pulito e sistemato nonostante anche i recentissimi atti di micro vandalismo a cui dovremo stare sempre più attenti sperando che anche questa manifestazione faccia pensare un po' alle persone prima di fare certi danni hanno appena spaccato un canestro. L'altro obiettivo è quello di favorire il gioco insieme padre e madre, genitori e figli quindi dare un momento di divertimento che credo non si dimenticherà mai nella vita cioè i bambini di adesso che parteciperanno alla categoria family si ricorderanno quando saranno grandi soprattutto e quando avranno anche loro dei bambini di questi momenti passati insieme ai genitori quindi rinnovo il mio invito a iscriversi quante più famiglie possibili senza nessun tipo di velleità senza nessun timore perché sarà veramente la domenica pomeriggio di divertimento e questo era il secondo scopo. Il terzo scopo è quello di promuovere questo sport e l'associazione BKI che io ho parlato con il presidente più volte ci stiamo allacciando con il centro pastore perché oltre a condividere gli stessi valori unendo le forze nella visibilità, nell'immagine, nel marketing riusciremo a dare più visibilità e quindi più iscrizioni, più importanza al BKI che comunque ha già delle sue idee di rilancio che io appoggio e spero di sostenere come centro pastore nel prossimo futuro quindi scommettiamo l'un l'altro a vicenda sul rilancio delle nostre due realtà. Siamo alla prima edizione di questo torneo 3 contro 3 che appunto sarà una prossima disciplina olimpica organizzata dal centro pastore in collaborazione col BKI, unica società che pratica il basket qua nella città di Imperia e genitori attivi e quindi è un torneo organizzato qua in questo campetto delle feriere proprio per farlo conoscere a tutta Imperia. È uno spazio che è stato riconsegnato alla città grazie alla provincia di Imperia, al comune di Imperia che tra l'altro ha dato il patrocinio quindi ringrazio il comune in particolare l'assessore Simone Vassallo per questa sensibilità che hanno dimostrato verso lo sport e dicevo questo spazio importante riconsegnato alla città lo stiamo difendendo con le unghie e con i denti, lo stiamo mantenendo in funzione ed è molto frequentato quindi di quale decisione di farlo qua, a poca distanza dalla sede del centro pastore e di fare il 3 contro 3 che è molto spettacolare.